L'anno che verrà, che da sempre è stato condotto dal buon Amadeus, potrebbe trovare come nuovo conduttore il buon Marco Riorni. Il capodanno di Rai, che va ad accompagnare il pubblico televisivo al Brindisi, il classico Brindisi di Mezzanotti, infatti potrebbe quindi vedere come conduttore, ripeto, il buon Marco Riorni, che prenderebbe il posto che è sempre stato dato al grande Amadeus in qualità di conduttore. Sarebbe stato da cospia di portare questa notizia qua ai vertici della Rai, escluso il buon Carlo Conte, avrebbe infatti deciso di puntare molto su Marco Riorni, questa nuova figura televisiva, che tornerà a novembre con l'idea di questa reta scolta della Rai. A suo fianco potrebbe essere presente anche una co-conduttore, che ancora non è stata individuata. Una nuova sfida televisiva, dunque, potrebbe arrivare di più al futuro e potrebbe vedere il buon Marco Riorni, conduttore di l'anno che verrà. Potrebbe essere la sbotta epocale epica per il buon Marco Riorni, che ha dimostrato proprio proprio il Rai di essere uno collegato a posto e di essere sicuramente un eccellente, nonché straordinario, conduttore televisivo. La Rai intanto sembra che sta valutando in maniera attenta e decisa di mettere, ripeto, Riorni come conduttore di l'anno che verrà, anche perché la Rai stessa trova Riorni come una risorsa veramente eccellente, straordinaria. Bene, vi ringrazio per l'ascolto e per la visione, un caro saluto da voi, una buona giornata a tutti e forza Marco Riorni sempre e comunque, come anche forse, mi di voi.